Ciao, bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Belen Rodriguez dopo il chiacchieratissimo rumor della rottura da Stefano De Martino ha confermato con gli avvistamenti dei paparazzi che ha una nuova relazione. La notizia ha suscitato molte reazioni, ma una in particolare ha attirato l'attenzione del pubblico. Quella del suo ex marito. L'Argentina è nota per la sua carriera di successo in televisione e per la sua vita amorosa. Recentemente, ha confermato di avere un nuovo compagno. Causando un'ondata di reazioni tra i fan e l'esplosione dell'interesse mediatico sempre alla ricerca di gossip. Molti si sono chiesti come avrebbe reagito Stefano De Martino. Il padre del loro figlio Santiago. Ma l'ex ballerino di Amici sempre più lanciato nel ruolo di showman dopo un lungo silenzio si è espresso sulla nuova relazione di Belen. Spiazzando tutti per la sua reazione. Belen Rodriguez con il nuovo compagno. La reazione di Stefano De Martino. Stefano De Martino dopo un lungo silenzio ha risposto alle voci di gossip confermando una chiusura civile con l'Argentina e mostrando il suo sostegno per Belen. Affermando che la cosa più importante per lui è la felicitassi suo figlio Santiago. Pur ribadendo che la relazione con Belen sia finita. Il conduttore ha sottolineato il fatto che il loro legame come genitori rimane forte. I fan di Belen e Stefano hanno avuto reazioni divergenti alla notizia che ha confermato la loro ennesima rottura. Mentre alcuni hanno lodato Stefano per la sua maturità e il suo sostegno. Altri hanno espresso preoccupazione per il benessere di Santiago. Nonostante le varie opinioni. Una cosa è chiara. La vita amorosa di Belen continua ad essere al centro del gossip da anni con o senza De Martino. Così con la sua nuova relazione ha infiammato il gossip aprendo l'interesse anche sul suo ex che sarà sicuramente guardato a vista dagli esperti di cronaca rosa a caccia di scoop. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.